Buongiorno allora, questo lunedì iniziamo la seconda settimana dedicata alla ricorsione così cerchiamo di consolidare gli esercizi che abbiamo fatto la settimana scorsa e soprattutto di allenare un pochino questo modo di pensare, quindi non vi raccontiamo nulla di nuovo, semplicemente andiamo avanti vedendo da altri punti di vista stessi esercizi, esercizi simili e così via. Dalla settimana successiva che salterà, diciamo dopo Pasqua, abbiamo un po' di settimane terremotate nel senso che nel bene o nel male abbiamo il 25 aprile che ci fa saltare un martedì, il 24 ci saremo e poi avremo il primo maggio anche che fa saltare invece un lunedì, quindi alla fine ci perdiamo un'intera settimana di lezione per queste coincidenze. Abbasso un attimo il volume perché ci riverbero. Comunque dal rientro, dopo la pausa pasquale, inizieremo un nuovo argomento che è quello dei grafi, poi la ricorsione ovviamente non la abbandoniamo perché diventerà poi lo strumento per risolvere alcuni dei problemi sui grafi. Mercoledì quello che vorremmo proporvi in laboratorio è un esercizio praticamente tratto da un tema d'esame, quindi dovrebbe essere già un pochino semplificato per rimanere nei tempi e per eliminare le parti che non conosciamo ancora, però è un esercizio a sua ricorsione un po' completo, non un esercizio sintetico come questi che facciamo in aula in cui il problema è effettivamente molto ridotto all'osso e quindi ci sarà non solamente da implementare perché poi alla fine come sempre nella ricorsione il codice non è mai tantissimo, ma più che altro di ragionare su come impostarlo. Spero che vi divertiate a farlo. Invece oggi volevo guardare insieme a voi un progetto che un folletto ieri sera prodotto e stamattina mi sono ritrovato qua, no sono sempre io, in cui ho lavorato un pochino per abbellire l'algoritmo dello zaino della volta scorsa. Allora cambiando un po' lo stile anziché riguoverlo insieme a voi, fare vari passaggi visto che non c'è nulla di realmente difficile, io partirei dal progetto già fatto, lo guardiamo insieme per capire dove ho messo le mani, che cosa ho fatto e magari due o tre flash su alcuni aspetti che non abbiamo ancora visto prima, anche molto pratici e poi ci giochiamo sopra, ci giochiamo e cerchiamo di capire se questo algoritmo che abbiamo implementato è furbo davvero, è efficiente davvero, se trova davvero le soluzioni giuste oppure magari no, che ne sai, magari c'è un baco terribile lì dentro e quindi la soluzione che trova non è per nulla l'ottimo, cosa facciamo a saperlo? E poi prenderemo spunto da questo per parlare nella seconda ora un pochino più di complessità che è uno strumento un po' più teorico che ci aiuta ad analizzare questo tipo di progetti Ok, partiamo dall'inizio così vediamo anche insieme i passaggi di importazione di un progetto di un database che so che ogni tanto in laboratorio ci sono dei dubbi o dei tentennamenti Allora, il progetto è qua su GitHub, a questo indirizzo, quindi prendiamoci la URL del progetto io parto da zero, l'ho fatto su un PC diverso da questo, quindi faccio i passi insieme a voi quindi chiudiamo questo, no, non chiudiamo, teniamolo ancora lì, ma chiudiamo le finestre Importiamo il progetto dal repository Git specificando ovviamente l'indirizzo che ho appena copiato dalla finestra di GitHub, tdp2017, zainfx.git Andiamo avanti, lui mi importa questo progetto Vabbè, lasciamo che lo metta dove vuole, anche se non lo mette sotto il workspace questa è una brutta abitudine di Eclipse, che quando io creo un repository lo mette dentro il workspace quando lo importo invece lui vuole a tutti i costi metterlo fuori quindi se capita come a me che il disco di sistema, magari un disco più piccolo dopo un po' si riempie, non sai perché, perché andate a vedere sotto la cartella Git ci sono tutti i repository, tutti i progetti che avete usato in passato anche se li cancellate da Eclipse il progetto, il repository rimane Comunque, non litighiamo con Eclipse che lunedì mattina non fa bene E quindi ci fa importare il progetto Io ho importato un nuovo progetto anziché fare dei commit su quello precedente per il semplice motivo che quello precedente era un progetto Java base questo è un progetto JavaFX con interfaccia grafica, eccetera quindi le librie sono diverse e non è banale prendere un progetto base e convertire un progetto JavaFX a mano aggiungendo le cose che servono quindi ho fatto prima a prendere un progetto nuovo e copiarci dentro le classi che mi servivano Ok, quindi abbiamo questo nuovo progetto ZainFX che è strutturato come i progetti a cui siamo obituati in JavaFX c'è un main, un controller e un fxml nel package principale poi ho un package database dove c'è una classe di connessione e una classe DAO e poi ho un package model dove sono andato a copiare sicuramente la classe pezzo che avevamo già e poi una classe solver o zaino che in qualche modo derivano da quella che avevamo nel progetto della settimana scorsa adesso lo andiamo a vedere con calma Prima domanda ma cosa ci serve questa classe Connect? Perché non possiamo mettere direttamente la connessione dentro il DAO? Adesso questa classe che ho chiamato DB Connect non fa altro che come si dice in gergo col pattern wrapper in carta si mette intorno alla chiamata Get Connection di Driver Manager allora uno dice ma perché ho dovuto complicare la vita alla classe DAO e non dire al DAO direttamente senti caro DAO chiamami Driver Manager anziché chiamarmi questo DB Connect Get Connection alla fine è sempre un Get Connection alla fine è sempre un Get Connection che viene restituito motivi potrebbero essere due uno è questa URL lo scritte in un solo posto all'interno di questa classe anziché scriverla dentro il DAO in teoria se avessi un progetto più complesso di classi DAO potrebbero averne più di una e quindi sarebbe bruttino avere tante classi DAO diverse delle stringhe di connessione diverse che poi devi mantenere allineate ma quello se vogliamo è un problema minore il motivo lo vedremo più avanti quando ci accorgeremo che quest'operazione qua Driver Manager.get Connection è un'operazione costosa in termini di tempo e allora troveremo un modo per riuscire a evitarla mettere un po' a fattore comune questa apertura e chiusura continua di connessioni in cui ci accorgiamo che perdiamo più tempo a aprire e chiudere le connessioni che non a farle qui di veri e proprie ok allora visto che questo è un problema che per noi non è ancora urgente lo rimandiamo però ricordiamoci che se la connessione la creiamo all'interno di una classe dedicata ci basterà cambiare quella classe e tutto l'applicativo andrà a posto se invece dovessimo mettere nel DAO l'apertura della propria connessione dovremmo andare a modificare ogni singolo metodo del DAO e questo non fa bene ok dopodiché che cosa che cosa ho pensato ho pensato che avere un programma come quello precedente che era in grado di risolvere solo un problema era un po' brutto allora sono andato a cercare in giro se c'erano se ci fossero delle persone che avessero magari messo a disposizione dei problemi da risolvere ho trovato questa pagina che è un po' la grafica è quella di due secoli fa ma non ci importa all'interno questi signori pubblicano 8 scusatemi dataset relativi a problemi di risoluzione dello zaino in un formato che agli eter sono andati più scomodo questo è un pochino peggio in cui ogni problema è descritto da 5 file di testo ok il primo dice la capacità dello zaino in questo caso 26 il secondo file contiene i pesi degli oggetti contenuti uno per riga messi così il terzo file contiene lui li chiama i profitti noi avevamo chiamato il costo o il valore degli oggetti contenuti quindi immaginate che il primo la prima riga del primo file corrisponde alla prima riga del secondo file ok e poi la cosa carina è che c'è un altro file che ci dice qual è la soluzione ottima quindi ci dice che la soluzione ottima in questo caso è di prendere non il primo ma il secondo il terzo il quarto e non il quinto elemento quindi abbiamo un confronto per verificare se poi il nostro algoritmo tira foro una soluzione che è uguale a quella ottima dichiarata da questi signori di cui per un momento ci fidiamo ok allora ciò che ho fatto è pensare di modificare il programma in modo che possa in modo che possiamo scegliere tra questi vari problemi e quindi all'avvio decideremo isoliamo il problema 1 il problema 2 il problema 8 e così via ok allora per far questo ho creato un database in SQL trovate qua dentro il workspace il file zanno.sql corrispondente che si trova qua andiamoci a prendere il percorso perché ci serve e lo importiamo dentro MariaDB quindi uno di tanti modi può essere usare ID SQL carica un file SQL e apriamo il file che sta dentro il progetto allora per importare e esportare il database ormai abbiamo capito che non è possibile semplicemente copiare un file binario da un computer all'altro quindi per trasportare un database da una macchina a un'altra uno deve prendere sulla macchina e su quel database fare un'esportazione del database e su un'altra fare un'importazione non esiste un formato diciamo standard per esportare e importare il database tutti gli strumenti usano la SQL quindi importare un database in realtà significa ho cliccato una volta di troppo significa eseguire una serie di comandi SQL che ricreano il database tale quale quindi apriamo questo file che di fatto contiene una serie di istruzioni facciamo un run quasi sempre MarioDB si dà questi warning che hanno a che vedere con le opzioni dell'inodb queste qua ignorateli pure se trovate altri errori no non va bene ma questi qui sono normali perché la procedura di esportazione mette delle opzioni diciamo che non sono più compatibili e avremmo a questo punto importato un database che si chiama zaino se andate qua non lo vedete ok ma è normale perché noi abbiamo eseguito una query che è stata eseguita e quindi ha creato un database ma che ne sa idsql che effettivamente questa query che potrebbe essere una select qualunque in realtà ha creato un database nuovo allora semplicemente bisogna tornare su questo tab di sinistra e fare un'aggiorna un refresh per farlo comparire per economia idsql non chiede a MarioDB o ad ogni momento dammi l'elenco di database altrimenti ralenterebbe troppo quindi in questo database zaino ci sono semplicemente due tabelline una che è chiamato problema l'altro che è chiamato pezzo il problema elenca due campi un id e una capacità che sono appunto gli identificativi del problema da risolvere quindi se avete altri problemi ovviamente di tipo zaino che volete risolvere basta aggiungere delle righe in questa tabella questa è semplicemente una stringa e il secondo campo capacità è la dimensione dello zaino non facciamoci spaventare da questi numeroni qua perché in realtà non vogliono dire nulla nel senso che semplicemente se io se il mio zaino magari fosse un container magari una capacità molto più grande se la misuriamo poi in grammi si arriva facilmente ai milioni ma non ci cambia non è questo valore che cambia la complessità del problema e questo è lo zaino vuoto poi dentro lo zaino vuoto dobbiamo mettere una serie di pezzi e l'insieme di pezzi che dobbiamo mettere dipende ovviamente dal problema allora questa tabella l'altra tabella pezzo contiene 4 più 1 colonne allora la contiene il peso il costo di ciascun pezzo e ovviamente il riferimento al problema a cui si riferisce se facessimo un modello entità relazione avremmo l'entità pezzo e l'entità problema e avremmo una relazione uno a molti tra problema e pezzo quindi un pezzo è relativo a un problema solo e un problema contiene più pezzi la relazione uno a molti quando uno va a implementare a livello relazionale si trasforma in un attributo nella classe lato molti che punta alla classe lato 1 quindi dal problema non c'è scritto quali sono i pezzi ma ciascun pezzo in realtà ha l'identificativo del problema a cui appartiene e quindi vediamo che solo qua possiamo vedere che il primo problema è fatto di 10 pezzi 10 selezionati sono qua il secondo problema è fatto di solo 5 pezzi il terzo problema è fatto di 6 pezzi e così via e ciascuno peso costo peso costo peso costo e poi mi sono portato dietro ovviamente anche la colonna ottimo 0 1 con cui semplicemente già che c'ero ci salviamo la conoscenza della soluzione ottima questa non la facciamo leggere al nostro programma se non sarebbe barare ovviamente quindi queste sono le 4 colonne ovviamente a livello di database vedete che id id è una chiave esterna che in id seql la trovate qua qui all'interno della struttura della tabella abbiamo id problema peso costo ottimo id problema è definita come chiave esterna in questo modo la colonna di problema fa riferimento alla tabella problema e in particolare alla colonna id della tabella problema ok questo cosa vuol dire vuol dire che i valori leciti permessi di problema nella tabella pezzo sono ristretti ad essere valori presenti all'interno della tabella problema nella colonna id detto in parole semplici non posso creare nessun pezzo se non lo associo a un problema che esiste e è stata definita nella tabella problemi ok questo perché definiamo questo uno per chiarezza ma anche soprattutto per integrità della base dati quando abbiamo una relazione come esempio uno a molti io vogliamo evitare che ci siano dei pezzi sparsi che non appartengono a nessun problema allora il modo per forzare questo tipo di appartenenza è a livello di database semplicemente mettere una chiave esterna quindi questo evitare impedisce che io possa creare un pezzo che non sia appartenente a uno dei problemi che sono già stati definiti in realtà questo ha anche un secondo vantaggio che sto dicendo il database guarda che queste database sono collegate quindi quando tu ti crei la chiave la chiave esterna che in realtà significa vatti a creare un indice per poter verificare rapidamente se un elemento c'è o non c'è una tabella problema beh questo indice lui lo potrà usare durante le query molto dell'efficienza nel database dipende anche da quali indici sono stati creati ovviamente all'interno della tabella all'interno delle relazioni quindi creare una chiave definire dichiarare una reazione le relazioni di chiave esterna ad esempio permettono sicuramente di garantire una migliore integrità dei dati ma anche una migliore velocità di reclusione delle query perché quando vai a fare un join tra queste due tabelle pezzo e zaino in realtà tutte le informazioni sul join lui le ha già l'ha già fatto questo join l'ha già fatto in fase di creazione dei dati e quindi sarà molto più rapido a risolvere vedete che quando ha fatto il join tra le due tabelle nel caso peggiore lui deve scandire per ogni elemento di una tabella ogni elemento dell'altra quindi è un'operazione annequadro se ci fosse un indice tra queste due tabelle che collega l'operazione scende da nquadro a n o addirittura a tempo costante perché l'indice ha dentro una tabella di hash alla fine quindi questa roba di database però non dimentichiamocelo che alla fine sotto i dati sono qua adesso i dati sono pochi quindi non ci accorgiamo delle prestazioni ma più avanti sicuramente avremo modo di apprezzare l'efficienza del database ok dicevo che questa tabella la 4 colonne più 1 la 1 quella che ho lasciato per ultima è in realtà la chiave primaria perché mi serve la chiave primaria perché le altre 4 tabelle le altre 4 colonne non sono sufficienti a garantire l'univocità del dato cioè io posso concepire di avere è decido non mi sembra vietato di avere un problema deo zaino che contiene due pezzi uguali che abbiano stesso costo e stesso peso questo l'avevamo già detto la volta scorsa quando abbiamo fatto la classe peso in modo molto artigianale abbiamo detto cos'è l'equals su che cosa lo bagliavano l'equals e avevamo deciso di basare l'equals sul nome non sulla copia peso valore e qui la stessa cosa mi mancava in questo formato di file giurastico mi mancava il nome del pezzo e allora il nome del pezzo l'ho fatto dare al database abbiamo la colonna id che è la chiave primaria quindi la chiave primaria l'ho definita così come indice chiave primaria e è di tipo auto incrementale quindi ogni volta che inseriamo un nuovo elemento all'interno di questa tabella si prende da solo un numero nuovo numero che per noi non ha nessun significato adesso vedete dei numeri che casualmente vanno da 1 a 82 e probabilmente non ci sono dei buchi in mezzo ma non è detto perché se io cancellassi un elemento e inserissi uno nuovo beh quello nuovo va a prendere il numero 83 e rimarrà magari il 55 manca non hanno significato questi numeri semplicemente sono appunto un valore incrementale che dipende da quanti inserzioni sono state fatte dall'inizio della tabella però è garantito che siano tutti diversi e univoci allora questa univocità della chiave primaria la sfrutteremo nell'università nell'uguaglianza degli oggetti di java quindi quando non c'è già un attributo un insieme piccolo di attributi che mi garantisce l'università di un dato è tipicamente sia per la salute mentale del database che assieme a chiave primaria funziona in modo più efficiente sia per l'identificazione degli oggetti in java si aggiunge una colonna in più che di per sé non servirebbe a nulla va bene allora questo è il nostro database l'abbiamo importato e allora passiamo a vedere l'applicazione che usa questo database allora io ho prima vi faccio vedere come ho immaginato l'interfaccia utente adesso come al solito qua questa risoluzione simbuilder non dà il meglio di se stesso ma noi andiamo in modalità preview così lo freghiamo allora questa qua è la finestra che mi sono immaginato questa è l'fxml puro quindi non c'è ancora nulla dietro allora io immaginavo una fase in cui selezionavo il problema quindi da questa tendina vorrei vedere l'elenco dei problemi presenti nel database quando ne ho selezionata una clicco il bottone carica e quindi lui mi dovrebbe caricare i dati di quel problema quindi i pezzi definiti per quel problema e quindi magari ho qua messo una finestra un'area di testo in cui scrivere ho caricato questi pezzi fatti in questo modo e così via una volta che ho caricato un problema ho definito un altro bottone risolvi in cui lanciare ovviamente l'argombo ricorsivo per risolvere quel problema e immaginate un'area di testo sottostante in cui stampare la soluzione trovata questo ci permette di giocare separatamente con i vari pezzi del programma proviamo a implementare e abbagare la parte di caricamento poi dopo la parte di risoluzione tenendole anche separate anche se poi per un utente finale probabilmente questi due bottoni vanno messi insieme ma noi che stiamo sviluppando ci conviene tenere separate le due fasi per il momento ok quindi questo è ciò che voglio ottenere allora partiamo dalle cose facili forse è la prima volta che usiamo un menu tendina giusto? allora a livello di java effects come si fa a realizzare la menu tendina si usa o drop down menu si usa un oggetto che si chiama combo box ce n'è un altro all'interno di java effects ci sono due oggetti molto simili uno si chiama combo box e l'altro si chiama choice box choice box l'hanno inventato prima è un pochino più stupido come oggetto un pochino più complicato da usare perché ha meno proprietà combo box è quello un pochino più utile quindi tra le due optate per questa perché si chiama combo box perché in realtà combina due cose combina un menu a discesa quindi con una serie di voci tra cui l'utente può scegliere e una casella di testo normalmente noi siamo abituati a una tendina siamo abituati a due forme diverse di tendine una è appunto la tendina normale tra cui posso scegliere una voce e punto e basta l'altra invece è una casella di testo in cui posso scrivere ed eventualmente aggiungere inserire un dato che non è presente ancora nell'elenco voi dici no non è vero non l'ho mai vista no l'avete vista sempre perché ogni volta che prendiamo qua cambiamo il font che abbiamo una tendina che contiene tutti i font ma io se voglio posso scrivere il mio font qua e lui me lo accetta si arrabbia un pochino dice guarda che non è definito ma fa lo stesso quindi ci sono dei casi in cui è possibile inserire dei dati anche se non sono presenti nell'elenco per questo questo controllo questo widget ha una funzione doppia di elenco e di casella area di testo quindi una combinazione tra una text area e un menu praticamente tra un text field e un menu in JavaFX noi possiamo decidere come vogliamo che si comporti attraverso questo attributo editable una combo box che non è editabile si comporta semplicemente come un menu posso scegliere tra le voci ma non aggiungere nulla non cambiarla se invece la rendo editable cambia un po' forma cambia un po' faccia se vado in modalità preview vedo che non solo posso scegliere tra un elenco che adesso è vuoto perché non ci ho messo dentro ma posso anche scriversi dentro ok quindi è comodo perché è versatile questo controllo lo posso usare in contesti diversi secondo di cosa mi serve ovviamente a noi non serve modificabile e poi questo oggetto come lo vedo a livello di controller come lo vedo a livello di programma java ovviamente sarà un nodo combo box combo box è andiamo a vedere il controller che ovviamente abbiamo estratto dal dallo sim builder combo box è un elemento parametrizzato quando voi esportate il controller da qua lui ve lo scrive in questo modo combo box punto interrogativo e poi il nome l'ho chiamato problema box problema questo vuol dire che è un oggetto generico generico rispetto che cosa rispetto al tipo di dato che contiene e voi mi dite ma come cosa contiene contiene delle stringhe una tendina contiene dei nomi uno dopo l'altro delle stringhe dei pezzi di testo no non solo anzi meglio di no java fx possiamo inserire all'interno di una tendina degli oggetti veri e propri dei riferimenti ad oggetti ovviamente cioè l'oggetto combo box contiene al suo interno una lista è un observable list ma qua è un tipo di list insomma un tipo di lista all'interno della quale lista del tipo che decidiamo noi col generico e quindi noi attraverso questo generico impostiamo il tipo della lista interna al menu e quindi possiamo aggiungere oggetti di un certo tipo sempre aggiungere riferimenti ad oggetti di un certo tipo poi ovviamente quando l'utente clicca sulla tendina e si apre non è che posso vedere l'oggetto chiamerà automaticamente il combo box il metodo to string del nostro oggetto e visualizzerà una stringa di testo però poi quando l'utente seleziona l'oggetto non ci restituisce la stringa visualizzata ma ci restituisce direttamente il riferimento all'oggetto presente nella lista quindi non dobbiamo mai andare a cercare qual è l'oggetto che ha questo nome andando a confrontare stringhe saremmo masochisti se lo facessimo quindi lavoriamo il più possibile ad oggetti allora ci chiediamo quale tipo di oggetti sono contenuti all'interno di questo elenco sono i problemi i problemi che vogliamo risolvere allora noi avevamo già una classe che avevamo chiamato zaino e avevamo già sviluppato la settimana scorsa adesso questa l'ho leggermente modificata che conteneva al suo interno la capienza massima e l'elenco di pezzi la classe zaino ce l'avevamo già io l'unica cosa che ho modificato per ora in questa classe è aggiungere il nome del problema la settimana scorsa non ci siamo posti il problema di dare un nome al problema da risolvere perché ce n'era uno solo in questo caso ne abbiamo più di uno e quindi è un oggetto zaino che contiene un nome P01 P02 P03 la capienza che è quel numero là e poi potenzialmente un elenco di pezzi io nel costruttore ho indicato solamente nome capienza come già facevamo la settimana scorsa prima creavo lo zaino e poi ci aggiungevo i pezzi dentro ricordate e quindi nel costruttore i pezzi vengono inizializzati a un insieme vuoto una lista vuota e poi ci sarà un metodo add da qualche parte che aggiunge un singolo pezzo oppure per comodità mia aggiungi un'intera lista di pezzi nulla di più di quello che facevamo la volta scorsa e poi ci ho aggiunto un toString che forse non avevamo che stampasse il nome e la capienza dello zaino ovviamente poiché vogliamo visualizzarlo allora questo è l'oggetto che vogliamo di cui vogliamo popolare la nostra tendina la combo box qui la combo box sarà in grado di contenere oggetti di tipo zaino noi cosa dovremmo fare dovremmo leggere il database avere una list di zaino e poi dire alla combo box senti usa questa lista perché questa è la lista che contiene gli elementi che devi visualizzare questa è la lista cosa dov'è questa lista allora la documentazione di combo box dice che combo box introduce dei metodi particolari la cosa più importante sto leggendo la documentazione aggiunge una proprietà items che salto riferimento a una cosa che non conosciamo è il contenuto degli elementi della lista di elementi che è visualizzata agli utenti quando cliccano sul bottone della combo box ovviamente è un giro di parole come sempre perché dirlo chiaro è troppo difficile vuol dire che gli elementi che fanno parte del menu della tendina sono contenuti in una property items che è una lista quindi nella mia combo box se voglio decidere quali elementi ci vanno dentro farò combo box punto get items che mi dà la proprietà items a questo punto ho una lista e su quella lista ci posso fare clear ci posso fare add ci posso fare remove ci posso fare quello che voglio perché è una lista ok la combo box tra il suo interno è una lista inizializzata vuota ma poi quella lista lì ci posso accedere si chiama items quella proprietà e quindi con get items si posso accedere e fare ciò che voglio quindi per aggiungere un elemento o per popolare questa tendina uso la proprietà items l'altra cosa che ci serve è sapere quindi devo sapere due cose di una tendina come fare a metterci dentro le voci e come fare a sapere quale voce è stata selezionata dall'utente allora quale voce è stata selezionata dall'utente è facile perché c'è una proprietà che si chiama value value è il valore correntemente selezionato per quell'oggetto può essere null se l'utente non ha ancora selezionato nulla oppure può essere uno degli oggetti poi qua ci sono un po' di punti che spiegano come funziona la proprietà value perché visto che la combo box può anche essere modificabile dall'utente allora la domanda è ma che oggetto mi ritorna quando l'utente scrive di suo ma oggi non interessa quindi non andiamo a leggersela questa parte però è tutto qua quindi in realtà c'è poi un'altra proprietà che mi dice se c'è qualcosa selezionato oppure no quindi capire se l'utente ha selezionato ma non ci interessa oggi allora come allora come facciamo a riempire a decidere quali voci compaiono nella tendina allora questa istruzione qui poi ragioniamo su dove l'ho messa questa istruzione qua fa il lavoro io immagino di avere una classe model che conosce che ovviamente dovrà sapere quali sono i problemi da risolvere andrà a chiedere il database quindi mi dà un get problemi che è la lista di zaino questo è un metodo del model io prendo questa lista che poi sono problemi del model sapere come la letta come la costruita e la uso per popolare gli item della combo box quindi box problema è la combo box get items è una lista di t dove t è il tipo generico in questo caso zaino e su questa lista ci faccio un normalissimo add all vedete che questo add all è un normalissimo java.util punto list punto add all è una lista di effetti mettiamo dentro una lista che è proprietà della combo box una copia dei riferimenti agli oggetti che il modello ci restituisce ok da questo momento in avanti nella tendina compariranno i two string dei vari oggetti nell'ordine in cui li ho inseriti quando seleziono uno quando l'utente seleziona uno di questi oggetti la proprietà value della tendina quindi di box problema cambia ovviamente si aggiorna e infatti lo vediamo poi dopo ma ciò che faremo sarà prendere la combo box punto get value e get value ritorna un oggetto di tipo zaino cioè lo zaino attualmente selezionato non la stringa visualizzata direttamente l'oggetto e quindi posso andare a prendere tutte le proprietà che mi servono direttamente da quell'oggetto ok allora a questo punto se ci fissiamo su questa linea due domande mi vengono uno come fa il modello a sapere quali sono i problemi banale secondo perché ho messo questa istruzione dentro questa istruzione dentro il metodo set model non potevo metterla da un'altra parte allora una per volta model.getproblemi allora il model non l'abbiamo ancora visto la classe model contiene principalmente un elenco di problemi un problema è definito dalla classe zaino la seconda proprietà la vediamo tra un attimo e come fa quindi il metodo getproblemi che il controller ha appena chiamato è un metodo stupido restituisce l'elenco dei problemi che sono in pancia al modello ovviamente non si chiede ma si ma il modello come ha fatto ad averli e per pigrizia io nel costruttore del modello ho chiamato il DAO un metodo DAO che mi dicesse leggimi del database l'elenco di tutti i design ok stiamo andando indietro noi avevamo la tendina da riempire sappiamo come fare a riempire la tendina ma ci serve un elenco di problemi l'elenco di problemi lo chiediamo al model il model ci restituisce senza problemi a patto che in fase di costruttore lui li abbia conosciuti per conoscerli li chiede al DAO e quindi dentro il DAO c'è un metodo che ho chiamato list zaino non è un get zaino non è un read è un list perché me li da tutti non me ne da uno solo dammi l'elenco degli zaini e questo metodo vabbè è la classica metodo da DAO select il numero il idea del problema la capacità del problema non ci sono parametri perché li devo ottenere tutti è un prepare statement eseguo la query per ogni elemento della query creo un nuovo oggetto zaino che viene aggiunto a questa lista che poi se tutto va bene viene ritornato al chiamante che è il modello quindi questo è un metodo semplicissimo del DAO questo è il punto in cui creiamo l'oggetto zaino poi questo oggetto zaino viene messo in una lista che abbiamo creato qui e questa lista contiene gli oggetti che sono stati creati dentro il DAO questa lista viene restituita in riferimento a questa lista il numerino che dice dove si trova viene restituita al model che se la memorizza gli oggetti zaino non li abbiamo più toccati li ha creati il DAO e restano lì anche quando facciamo nel controller questo lavoro ad all non stiamo creando nuovi oggetti zaino le new dello zaino le abbiamo fatte solo dentro il DAO stiamo semplicemente copiando i riferimenti a quegli oggetti dalla lista del model alla lista della combo box ma gli oggetti rimangono lì io intanto torno su questo perché dobbiamo imparare a visualizzarci da queste cose a parte questo questo metodo non ha nulla di particolare come dicevo per pigrizia l'ho chiamato nel model quindi quando faccio new model lui si collega al database e legge l'elenco dei problemi non l'elenco di tutti i pezzi non si legge tutto il database di memoria per ora gli serve solamente l'elenco dei problemi per popolare la tendina ok? allora il controller quando può questo maledetto controller popolare questa tendina? il controller può popolare la tendina nel momento in cui lui può chiamare il metodo get problemi sul modello e quando è che può chiamare il metodo get problemi sul modello? solamente dopo che qualcuno gli ha detto chi è il modello e quindi lo metto in questo set model perché ti passo il modello e quindi da quel momento in avanti tu puoi chiedere al modello dimmi qual è l'elenco dei problemi prima non potevi e uno dice ma c'è un metodo che si chiama initialize nel controller perché non lo possiamo chiamare lì? perché questa istruzione qua sotto non la possiamo mettere in initialize? ok? questa è la causa del 20% nell'ulpo interception negli esercizi che si fanno la risposta è perché initialize viene chiamato troppo presto andiamo a vedere il main nel main questo è il solito main che facciamo abbiamo il loader che carica la fxml poi creiamo il modello otteniamo il controller e chiamiamo il metodo set model il metodo initialize del controller quando viene chiamato? risposta qui il fxml loader leggi il file xml crea la scena crea gli oggetti crea il controller quindi fa lui la new della nostra classe controller inietta i riferimenti quindi quando c'è l'fxd box problema la collega la variabile java private java box problema in modo che le variabili interne al controller noi le abbiamo dichiarate qua ma non le abbiamo inizializzate chi è che le inizializza? Le inizializza il loader quindi questo metodo load non solo legge carica la fxml ma crea fa la new del controller imposta tutte le variabili marcate come fxml facendole puntare al nodo giusto che è lì giusto e poi chiama initialize quindi initialize viene chiamato viene chiamato in un punto di recusione del programma in cui la scena è completa quindi il fxml è stato letto e basta quindi siamo qua qua non c'è modo di far avere al controller riferimento al modello se anche io il modello l'avessi creato anziché alla riga 18 l'avessi creato su alla riga 15 sopra il modello c'è già ma come faccio a dire al controller questo è il modello da usare che il controller non esiste ancora non c'è modo quindi devo prima farmi creare il controller e poi una volta che è creato gli dirò lavora con questo modello ok e quindi una parte dell'interfaccia utente la possiamo inizializzare nel metodo initialize quale parte quella che non dipende dai dati se noi in questa tendina avessimo dovuto mettere i numeri da 1 a 100 andava benissimo nell'initialize facevamo un loop li generavamo se avessimo dovuto generare che ne so immaginate il quadrato magico mettendoci dentro i numeri un quadrato magico di 20 per 20 mettendo dentro 400 numeri diversi lo potevamo fare se non dipendeva dai dati se invece abbiamo qualcosa che in fase di initializzazione del controller deve dipendere dai valori che abbiamo nel database siamo obbligati a rimandare il completamento dell'interfaccia utente non farlo né nell'nfxml perché non abbiamo un'informazione né nell'initialize perché non ho ancora il modello a disposizione ma direttamente sotto set model quindi il metodo set model assume un significato in più non solamente mi salvo riferimento alla classe model ma anche completo l'initializzazione dell'interfaccia utente con le informazioni che solo il model può darmi il risultato di tutto questo qual è? che possiamo lanciare l'applicazione e vedremo una tendina correttamente riempita ieri funzionava questo è l'fxml clicco qua e vedo l'elenco dei problemi degli oggetti tipo zaino che l'ho detto dal database ok? finora non posso fare molto di più qui vediamo una stringa che è il toString corrispondente all'oggetto zaino letto caricato ma so già che quando seleziono una voce in realtà ciò che viene selezionato è un value corrispondente all'oggetto vero e proprio non solamente alla stringa visualizzata quindi se noi volessimo riassumere ci spendo un po' di tempo perché in realtà poi lo facciamo spesso questo lavoro qua di assumere l'ordine con cui avvengono le operazioni abbiamo che il main cosa fa? il main aspetta fatemelo mettere proviamo a vedere l'ordine con cui avvengono le operazioni di cui abbiamo parlato abbiamo la classe main che come prima cosa esegue il loader chiamolo così a parole e quindi dentro l'order carica il controller crea controller e chiama controller punto initialize questo è quello che fa il main dopodiché abbiamo detto che il main crea il modello qui noi poi abbiamo una classe controller che viene creata dalla fxml quindi nel main abbiamo una chiamata esplicita al loader dell'fxml al metodo loader che dentro oltre a creare la scena crea la classe controller quindi la fa nascere e poi chiama il metodo initialize sul controller quindi questo fa l'initialize poi il main istruzione dopo crea il modello e chiama set model allora quando crea il modello lui il modello crea il costruttore quindi abbiamo una classe in più model e lui chiama ovviamente attiva il costruttore del modello poi quando il main chiama controller punto set model ovviamente il metodo set model viene chiamato sulla classe controller quindi abbiamo varie classi che si parlano a un certo punto il controller è stato creato non abbiamo un costruttore per il controller ma abbiamo un metodo initialize che viene chiamato direttamente dal loader poi il main crea il modello quindi la classe modello inizia a esistere esegue ovviamente il proprio costruttore subito dopo il main chiama controller punto set model e controller esegue il metodo set model e poi il main fa altre cose che ci interessano meno cioè crea la scena e la attiva va bene crea la scena lo stage e attiva lo stage stage.show ma questo non ci interessa più tanto da parte dell'interfaccia grafica noi sappiamo cosa succede dentro il costruttore del model il costruttore del model chiama il DAO quindi crea il DAO facciamoci qualche riga vuota allora crea il DAO e chiama DAO punto get problemi o get zaino get zaino scusate questo è ciò che fa lui e quindi abbiamo un oggetto nuovo che è il DAO zaino DAO non è get zaino ma è list zaino prima o poi ci arrivo giusto e quindi il zaino DAO a questo punto esegue il metodo list zaino il costruttore del DAO non c'è non fa nulla quindi qua ci dovrebbe essere il costruttore del DAO ma non serve e qui invece abbiamo un metodo list zaino che viene eseguito il zaino restituisce una lista di zaino e viene ovviamente il modello lo memorizza in this punto problemi memorizza cosa? la lista non mi sta tutto quindi lo dico parole la lista di zaino restituita dal DAO viene memorizzato se non ci credete è scritto qua dentro this punto problemi quindi questa è la sequenza delle operazioni a questo punto lo zaino restituito il valore del modello il modello ha finito il lavoro che deve fare nel costruttore quindi il controller torna al main il main chiama controller punto set model e quindi andiamo a vedere cosa fa il controller nel metodo set model innanzitutto ottiene get problemi dal modello quindi dal modello esegue il metodo get problemi si chiama così no questo metodo si get problemi e poi popola la tendina questo qua viene dentro il metodo set model del controller questo qua invece va diventato così quindi le cose succedono tutte però devono succedere nell'ordine giusto e purtroppo uno deve fare un pochino di rimbalzo avanti e indietro per aspettare che i dati ci siano questo schema lo useremo molto spesso questo schema lo possiamo usare tutte le volte in cui nel costruttore del modello è possibile già leggere i dati del database a volte invece prima di poter leggere i dati del database ho bisogno di un'interazione con l'utente allora non lo posso fare ancora nel costruttore del modello dovrò far dopo e allora non farò questo lavoro qua dovrò aspettare che magari l'utente selezioni un numero e allora a quel punto faccio poi le query nel database quindi se uno non trova dove sono le cose perché sono sparpagliate un pezzo nel modello un pezzo nel DAO un pezzo nel controller bisogna riuscire un po' a ricucire queste cose cioè alla fine questi dati del DAO che arrivano nel database vanno a finire qui e alla fine arrivano sulla tendina adesso il passo successivo è quello di caricare la database lo zain qui è facile non c'è molto da dire avremo nel controller un metodo che ho chiamato handleCarica che innanzitutto si chiede ok qual è il problema che l'utente ha selezionato dalla tendina tendina punto getValue che è un oggetto di tipo zaino quindi quando l'utente fa così ha selezionato l'oggetto corrispondente allo zaino di nome P06 a meno che l'utente non abbia selezionato nulla e questo può succedere solamente all'avvio del programma perché poi una volta che ho aperto questa tendina non riesco più a togliere il valore ma appena parte il programma è vuota quindi se io chiamassi getValue adesso ritorno a null se provo a cliccare su carica adesso mi stampa questo errore che è questo qui a riga 40 perché lo zaino selezionato il getValue mi restituisce null perché l'utente non ha ancora selezionato nulla se invece l'utente seleziona qualcosa allora vabbè stampa un po' di roba ma essenzialmente dice al modello guarda che l'utente ha selezionato questo zaino il modello ha l'elenco degli zaini però ricordiamoci che sono zaini di cui lui conosce solamente il nome la capienza non conosce ancora i pezzi che ci sono dentro per economia abbiamo deciso di non leggerli subito questa operazione qua si chiama in gergo lazy loading cioè caricamento pigro dei dati non carico dei dati del database fino a quando non mi servono allora mi serviva l'elenco dei zaini l'ho letto i pezzi non mi servivano ancora non li leggo adesso quando so che l'utente ha selezionato uno zaino posso leggere i pezzi di quello zaino lì così se avessi 12 milioni di zaini diversi non devo leggermi i dati di tutti quando poi l'utente interessa uno solo leggo solamente quelli dello zaino che interessano l'utente quindi essenzialmente questo metodo questo bottone carica non fa altro che chiamare questo metodo del modello il controller fa un po' così il controller ha un'azione dell'utente e quasi sempre la ribalta su un'azione del modello facendo attenzione al controllo dei dati che i dati ci siano e facendo un po' di conversazione con l'utente stampa l'utente i risultati eccetera eccetera e cosa se ne fa il modello di questo a questo punto il modello deve sapere innanzitutto qual è lo zaino che ha selezionato l'utente caricare i pezzi e ricordarsi che quello è lo zaino che ha caricato non altri e quindi il metodo seleziona zaino che cosa fa? vabbè ce lo potremmo aspettare chiede al DAO l'elenco dei pezzi quali? quelli del problema zaino zeta che il controller gli ha comunicato qui siamo model punto seleziono zaino a cui il controller ha passato lo zaino zeta che l'utente ha selezionato nella tendina allora questo zeta lo uso nella query del DAO per chiedere dammi tutti i pezzi di questo zaino e questi pezzi memorizzali all'interno dello zaino stesso ricordiamoci che l'oggetto zaino ce l'aveva già una proprietà che si chiamava pezzi ma era una lista vuota adesso che abbiamo i pezzi adesso che abbiamo letti possiamo salvarli quindi quando l'utente fa carica il model cosa fa? carica chiede al DAO dammi i pezzi se li carica dentro lo zaino corrispondente quindi noi avremo tanti zaini che hanno tutti zero pezzi perché non li abbiamo ancora caricati ma uno in realtà ha i pezzi nell'elenco salvati in più l'altra cosa che fa il model è ricordarsi qual è lo zaino che ha appena caricato quindi l'ho chiamato problema corrente una variabile qua privata del modello che si ricorda qual è lo zaino che è stato selezionato dall'utente perché poi l'utente può cambiare tendina però attenzione non è che se l'utente cambia tendina io me ne accorgo io ho caricato uno zaino e su quello devo lavorare quindi ciò che fa l'applicazione a questo punto è avendo selezionato uno zaino sul bottone carica questo problema è selezionato zaino il controller lo stampa prima di chiamare il model poi chiama il model e alla fine mi dice il contenuto mi stampa model get problema corrente get pezzi size e get pezzi to string mi dice quanti pezzi ho e quali sono non è molto ben leggibile questo è il nome del numero del pezzo che per noi era l'ID e poi peso e costo di questi sei pezzi e come fa il model a fare questa cosa beh chiama il DAO anche qua siamo di nuovo a una query molto semplice qui siamo dentro il DAO c'è un metodo lì spezzo che questa volta prende un parametro zaino e quindi la query è parametrizzata con id problema uguale parametro e lì di problema sarà il nome dello zaino quindi passo l'oggetto zaino lo zaino contiene P03 come nome la capacità che c'è c'è dentro qualcosa io prendo il nome P03 lo inietto dentro la query al posto del parametro e mi faccio dare il database l'elenco di tutti i pezzi di questi pezzi estraggo il peso il costo e l'id che uso come nome questo metodo new pezzo è esattamente quello della settimana scorsa non toccate la classe pezzo la metto in una lista e ritorno a questa lista qui nulla di particolare classico lavoro da DAO ricevo un parametro faccio una query e ti restituisco il risultato fine e poi c'è la parte interessante che è quella di fin qua va bene sono frammenti che usiamo in modo quasi l'uguale quasi sempre ci rimane risolvi ma noi il procedimento ricorsivo l'abbiamo già fatto la volta scorsa quindi il bottone risolvi che cosa farà? andiamo a prendere il controller vabbè questo fa chiede al modello sono tutti affari tuoi risolvi questo problema quindi il controller quando l'utente gli chiede risolvi il problema il controller da buon controller ordina il modello risolvi il problema e come sempre prima di passare la palla al modello il controller controlla che ad esempio il problema corrente non sia null cioè se io non posso premere risolvi prima di aver premuto carica e quindi verifico non chiamo il modello su un problema che non è ancora stato caricato ad esempio quindi qualche piccola gestione dell'errore poi qualche stampa al fondo e il metodo solve del modello che cosa farà e in questo caso chiamo una classe solver inizializzandola col problema corrente ricordiamoci che il problema corrente è un oggetto tipo zaino zaino che ha l'elenco dei pezzi caricato perché l'abbiamo appena caricato e quindi lo risolve allora cos'è questa classe solver? beh ecco l'unico lavoro che ho fatto è stato quello di separare la classe zaino dalla classe solver nell'esercizio della settimana scorsa che ho qua avevamo una classe zaino che era ibrida questa è la classe zaino vecchia avevamo dentro dei metodi di gestione dello zaino aggiunghi il pezzo costruisci dammi l'elenco dei pezzi eccetera e dei metodi di risoluzione del problema quindi non dà tanto bene che la stessa classe avesse l'algoritmo dentro io allora io preferisco tenere l'algoritmo separato allora i metodi scegli che era la procedura ricorsiva e risolvi li ho messi in un'altra classe che ho chiamato solver mentre dentro la classe zaino come vedete non c'è più nulla di questo to string get nome get capienza get pezzi add e basta e set pezzi che di fatto fa gli add di tutti la classe solver ha i metodi restanti quindi la classe solver non c'è nulla di nuovo non ho implementato niente di nuovo ho copiato dentro riconoscete costo riconoscete peso scegli identico codice risolvi e basta questo è il main lo guardiamo dopo questo è il main dell'altra volta semplicemente ho spezzato la classe in due perché in realtà faceva due cose diverse allora è meglio mettere in due classi diverse la classe solver ovviamente a livello di costruttore visto che a questo punto i metodi non sono più dentro lo zaino la classe solver viene costruita passando di uno zaino cioè qual è lo zaino che devo risolvere? z dopodiché praticamente l'unica differenza era uno zaino punto get pezzi mettere un zaino punto nei metodi che prima erano della stessa classe adesso sono di classi diverse quindi in realtà non ho cambiato nulla quindi il modello controller utente che prende il bottone risolvi controller chiama il modello chiede solve il modello chiamo una classe solver avrei potuto implementare l'algoritmo anche dentro il modello ma preferisco tenere classi piccole separate facili da testare anche perché poi un domani magari voglio migliorare l'algoritmo faccio una classe a parte e mi basta cambiare semplicemente questa new e sono a post e non devo e ho sempre lo stesso control lo stesso model quindi chiamo la classe solver e chiamo il metodo risolvi di questa classe basta dopodiché questo metodo risolvi mi restituirà un set di pezzi ma già lo faceva prima era zaino punto risolvi lunedì scorso e ritorno questa soluzione al controller il quale lo visualizzerà l'utente quindi in realtà tutta la complessità è qua dentro ma l'abbiamo già risolta la settimana scorsa oggi abbiamo solo fatto il vestito carino intorno allora vestito carino quanto è carino beh che questo zaino qua clicco su risolvi e lui mi dice che la soluzione del problema che avevo selezionato che era il P03 è una soluzione che è questa pezzo 16 pezzo 17 peso pezzo 20 avrà ragione lui nel senso che questo è il problema P03 noi possiamo barare andare a vedere nel database il problema P03 è qua e i pezzi da prendere sono il 16 lo vedete uno qua il pezzo 16 il pezzo 17 e il pezzo 20 16 17 20 in più già che c'ero ho stampato due statistiche il tempo impiegato quindi quando chiamo il metodo solve il modello dove siamo quando chiamo il metodo risolvi il modello si tiene conto del tempo inizio tempo di fine e quindi calcola il tempo trascorso quindi erano il nanotimer si trascorso il tempo in nanosecondi quindi per avere i millisecondi devo dividere per un milione microsecondi non è che me ne freghi più di tanto il micro e mi dice 0 millisecondi è veloce anche altri problemi problema 4 carica risolvi anche questo qua ci mette 2 millisecondi e l'altro valore di cui ho tenuto traccia è questo numero di chiamate numero di chiamate di che cosa? del metodo ricorsivo cioè per capire un po' dove spendo il tempo ogni volta che entro nella procedura ricorsiva scegli ho incrementato un contatore giusto per rendermi conto di cosa succede e alla fine questo numcos viene restituito al modello il quale lo restituisce al controller quindi vediamo che per risolvere il problema 4 che aveva 7 pezzi a parte i millisecondi che sono 2 anziché 0 più che altro aveva fatto 800 chiamate anziché 100 ovviamente il numero di chiamate che fa dipende dal numero di pezzi e dipenderà anche da quanti sono i pesi di questi pezzi se io prendo il problema 5 carico il problema 5 8 pezzi provo a risolverlo ci mette 22 millisecondi ma soprattutto fa 20.000 chiamate anziché 800 la procedura ricorsiva 20.000 poi lo fai in 20.000 secondi noi siamo tranquilli ma se prendiamo il problema 6 il problema 6 fa ridere perché non solo 7 pezzi e ci mette 200 chiamate il problema 7 comincia a essere un pochino più interessante ha 15 pezzi clicco su risolvi e non l'interfaccia si è bloccata perché sta facendo cose sotto sta facendo chiamate allora il problema più grosso che abbiamo risolto era l'8 era quello con 8 pezzi faceva 20.000 chiamate e ci metteva 22.000 secondi questo problema è grosso il doppio 15 pezzi anziché 8 però ci sta mettendo un tempo significativamente maggiore tranquilli che ce la fa ce la fa ce la fa secondo voi dai mentre lui pensa chi riesce facciamo il gioco dei fagioli della Carrà quante quante chiamate ci saranno 100.000 1.000.000 10.000.000 100.000 100.000 andiamo per l'ordine di grandezza 1.000.000 non lo so non me lo ricordo almeno 1.000.000 dicono per buona misura ecco allora ci abbiamo messo 79 secondi quindi un po' più di un minuto sembrava lungo aspettare invece era un minuto è passato meno di 2 e questi qua sono 5.56 1.96 sono 125 milioni è vero che chi ha detto più di un milione aveva ragione però è una ragione un po' presa alla larga e quest'altro l'ultimo problema che ha 24 pezzi non lo so nel senso che non ho avuto la pazienza di aspettare probabilmente non avrei neanche la vita di aspettare io avevo ancora 40 anni da vivere ma non so se termine allora cerchiamo di capire perché che poi questa analisi qua è un po' il lancio di quello che faremo nell'ora successiva quindi questo qua lo lasciamo non dare se volete ma non abbiamo speranze di vederlo poi c'è l'intervallo che incombe quindi figuriamoci lui sta lavorando come un forsennato voglio solo farvi vedere una cosa poi dopo vi cambio esperimento sta lavorando al massimo delle capacità di questo computer o no? cioè io mi aspetterei qua che la CPU usata da Java che è la nostra applicazione fosse al 100% perché è solo al 30%? la CPU guardatela qua ha avuto un picco al 100% quando ho lanciato i clips e tutto e poi si è assestata intorno al 30% qualcuno sa perché? andiamo più in dettaglio tutti i processori moderni sono multicore all'interno hanno più di una CPU e allora se andiamo a vedere sufficientemente nel dettaglio vediamo che adesso questo è scemo questo dipende dal sistema operativo cosa fa ci sono alcuni CPU che stanno lavorando e altri meno e altri no il nostro programma ricorsivo è un programma sequenziale quindi usa un unico thread di esecuzione e quindi questo PC qua che ha 4 core in realtà ne usa uno solo quindi può usare può sfruttare al massimo il 25% della potenza di calcolo di questo computer perché gli altri 3 core sarebbero pronti per eseguire lavori in parallelo ma io non gli sto dando nulla da fare in parallelo si Windows sta facendo qualcosa con le finestre il refresh dell'interfaccia grafica eccetera usa un po' gli altri core ma a livello dell'algoritmo uno solo sta lavorando adesso voi non vedete uno al 100% gli altri allo 0 perché il sistema operativo fa un po' di rotazione un po' te un po' te un po' te ma se potessimo vedere nello zoom nel dettaglio vedremo che in ogni istante di tempo c'è solo uno di questi core che sta lavorando poi si passano il lavoro da uno all'altro ma quindi vedete guarda come è arrivato bene al 25% esatto sta esattamente usando un quarto della sua potenza di calcolo cioè un core su 4 lavora il nostro problema gli altri 3 non hanno niente da fare poi per nascondere un po' la cosa fanno un po' ciascuno ma in realtà un po' come nei lavori pubblici c'è uno che lavora e 3 che guardano ma per non farlo notare fanno un po' cambio ok l'ultima cosa io ovviamente non avendo né la vita né la speranza nella speranza di vita di riuscire a vedere finire sta roba però mi sono chiesto ma riusciamo a capire l'andamento del tempo che ci vuole delle risorse che ci vogliono allora mi sono fatto una classe di test che vai passando tutta l'interfaccia grafica va a caricare il problema 8 e poi tarocca un pochino la selezione a zaino dicendo senti selezionami lo zaino che ho chiamato zaino grande quello maledetto da 24 pezzi però metti un limite massimo un pezzo massimo due pezzi massimo tre pezzi quindi mi creo 24 problemi diversi presi pescati dallo zaino da 24 il primo problema un pezzo solo il secondo due pezzi il terzo tre pezzi e così via così vedo aggiungendo un pezzo ogni volta come cresce il tempo di esecuzione come cresce il numero di chiamate allora eseguendo questa classe vediamo che in un battito di ciglia ha risolto i primi 8 problemi lo zaino di dimensione 0 vabbè di dimensione 1 ha fatto due chiamate ricorsive dimensione 2 una fatta 5 dimensione 3 una fatta 16 dimensione 4 una fatta 65 chiamate e qui sono i tempi dimensione 8 siamo a un milione scarso di chiamate e 500 milisecondi dimensione 10 sono 9 milioni di chiamate e siamo sui 2 secondi quindi ragionevole dimensione 11 siamo sui 60 milioni di chiamate e ci abbiamo messo 15 secondi e sta andando avanti allora noi ci facciamo un quarto d'ora di intervallo e vediamo dove è arrivato si scommette se arriverà il 12 o il 13 o il 14 ok e poi ragioniamo su questi numeri che abbiamo appena ottenuto grazie grazie